Scuola e solidarietà continuano le iniziative promosse dal liceo scientifico Volta nell'ambito del progetto d'istituto denominato studenti fuoriclasse sul versante dell'incontro con il mondo del volontariato e del terzo settore. Decine di studenti maggiorenni questa mattina hanno incontrato gli operatori dell'Admo, l'Associazione dei Donatori di Midollo Osseo, per effettuare un test salivare che consentirà così l'ingresso dei giovani nel registro internazionale dei donatori di midollo osseo. Un gesto importante, dicono che può salvare una vita. Noi vogliamo che i ragazzi si sensibilizzino alla donazione del sangue midollare perché è importante, è importantissimo. Noi abbiamo bisogno di persone che attraverso la solidarietà riescano a salvare delle vite.